Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui con la carriera del Foggia Calcio Ci siamo lasciati nell'ultimo video che abbiamo vinto 2-1 ad Avellino e adesso affronteremo i rivali del Benevento Ci becchiamo nel match ragazzi Vai Mazzio, mamma mia sui scarto a 1, ancora Mazzio e vabbè Attenzione però buono e c'è il gollo, Fabio Mazzio, il gol dell'ex, Benevento 0, Foggia 1, mamma mia La scorsa partita Padovan ma stavolta punisce Fabio Mazzio Mamma mia che cagata la difesa del Benevento guardate Che cagata ragazzi, mamma mia meno male, è subito 0-1 Calcio d'angolo a battere a Sarno, Sarno, Mazzio, mamma mia Mazzio usciva sto gol Mazzio titolare fino alla morte ragazzi Mamma mia guardate qui Mamma mia Ma arriverò là Per Sarno, Chirico, Chirico, Sarno Un tocco sotto, morbidissimo, Vincenzo Sarno Mamma mia che gol È calcio spettacolo Va a festeggiare vicino alle telecamere Insieme ai suoi compagni Mamma mia che gol Che azione Un'azione da Foggia Mamma mia guardate qui Riverola, Persarno, Chirico, Pogliela, Rida E a me sembra, io veramente non ci credevo più di tanto ragazzi, ho provato Ma che gol è uscito fuori, un'azione fantastica Ed è Benevento 0, Foggia 2 Mamma mia Attenzione qui, Benevento No, cazzo No, ragazzi No, vediamo Il rigore ovviamente Vediamo il cartellino giallo Giallo Ragazzi, pensavo che si è centrata verso la porta Per questo ho fatto la scivolata Mannaggia Benevento che ha la possibilità di riaprire la partita praticamente Vediamo chi va dal dischetto Va, Melara Melara contro Guarna E centrale, vaffanculo Benevento 1, Foggia 2 Melara Riapre tutto Crediamoci, dai Portiamo a casa questa vittoria No, non ci credo No, non ci credo Cosa farei Fermate il nero Ma non ci credo Che si è timorato E' finita ragazzi Abbiamo vinto 2 a 1 Ma che si è mangiato si se Mamma mia Due vittorie consecutive Avellino e Benevento 6 punti in classifica Avanti così ragazzi Ed è davvero tutto per questa sera Ok ragazzi Siamo già pronti per la terza partita contro il Carpi Diamo fiducia a Stefano Padova Che sta crescendo Mi è cresciuto da 70 a 71 Quindi ragazzi Non perdiamoci in chiacchiere E andiamo subito per la terza partita Per conquistare gli altri 3 punti Benvenuti a tutti i telespettatori Che assisteranno a questo incontro Ci siamo quasi Fra poco inizierà la partita Ciao a tutti da Fabio Garesa Insieme a me per la telecomica di oggi Luca Marchionale Ciao Fabio Io sono pronto Tu sei pronto Mi è a casa Il muro della notte Il rosso la passione Colori che da sempre Sono il mio grande amore Forza, 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 forza E poi ci si comincia Forza, forza Vai Angelo Angelo Per Chirico sulla faccia Vai Chirico Metti in mezzo Padova Sefano Padova Porta in vantaggio il Foggia 1-0 La fiducia è stata ripagata Mamma mia Ragazzi questo cresce È giovane È giovane e cresce Mamma mia Foggia 1 Carpi 0 Avanti così Non ce n'è qui punizione Guarda Mamma mia Guarda che ha preso Poi fuori Cos'è preso San Guarda Mamma mia Ragazzi Mamma mia Vai dai L'ultima azione L'ultima azione Capitano Agnelli E il portiere La prende Tiro morbido E finisce qui Primo tempo Ragazzi 1-0 Per il Foggia Calcio Stiamo andando Alla grandissima Continuiamo così Per conquistare Sti tre punti Che fanno comodissimo Per la classifica Non dare agli avversari La possibilità Di recuperare 1-0 Dopo i primi 45 minuti Attenzione qui Dai 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 Arbitro Guardiamo si tre punti Fischia Bagnelli Forse l'ultima azione Proviamo l'ultima azione E non dice che basta così L'arbitro Nelle punti Classifica Mamma mia Tre vittorie consecutive Stiamo andando Alla stra grande Ragazzi Ragazzi Questo episodio Può finire qui Non si poteva Iniziare meglio Secondo me Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Commentate E condividete E noi ci vediamo Al prossimo video Bella